Ben trovati ad un nuovo tutorial del corso di montaggio video con Adobe Premiere. Sono Fabio Ambrosi, quest'oggi parleremo del trim. Il trim è un'operazione che viene fatta da tutti i montatori, a prescindere dal software che si va ad utilizzare. Chi monta con Avid, per esempio, è molto pratico di trim. Chi monta con Sony Vegas sa e deve utilizzare il trim. Chi monta con Premiere deve saper fare un trim. Oggi vedremo di cosa stiamo parlando ed esploreremo un po' di strumenti che Premiere mette a nostra disposizione per lavorare le clip una volta inserite nella timeline. Prima però vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete tutte le lezioni che state vedendo del corso di montaggio video con Adobe Premiere con articoli di approfondimento o di riassunto e altri tutorial o altri articoli dedicati anche ad altri strumenti Adobe. Vi invito anche, se volete, ad iscrivervi al mio canale YouTube in maniera tale da non perdere nessun video tutorial di prossima uscita e se vi fa piacere mettete un like alla mia pagina Facebook. Cercatemi come Fabio Ambrosi. Torniamo subito ad Adobe Premiere. Eccoci di nuovo in Adobe Premiere. Per parliamo di trim. Come detto la volta scorsa, il verbo to trim è un verbo che in inglese significa tagliare. Allo stesso modo del verbo to cut. Sono due termini che indicano la stessa operazione, ovvero il taglio. Con una differenza, no? Abbiamo detto. Mentre to cut significa tagliare nel senso di prendere le forbici via e tagliare in due qualcosa che in origine era uno, il verbo to trim non ha il senso di tagliare nel senso di prendere le forbici e fare un taglio, ma è un po' più simile a quell'operazione che si fa quando si va dal barbiere, no? Voi andate dal barbiere e accorciate i vostri capelli o, se fate l'extension, li allungate, no? Ecco, il verbo to trim è più vicino a questa seconda accezione di taglio, ovvero modificare in qualche modo la durata. Quando noi parliamo di trim nel mondo del montaggio video, parliamo un po' di questo, no? Modifichiamo la durata di un elemento che è già presente nella nostra timeline. Per esempio, io ho preso due clip. La prima che è il caffè che esce. Ci piace tanto il caffè a tutti quanti, almeno io ne vado matto, eh? E quindi ho pensato bene di prendere una prima clip con il caffè che esce. È semplicissima. Andiamo veloci. Ecco qua, questa è la prima clip con il caffè che entra nella tazzina, ok? La seconda clip è un'operazione molto semplice. Prendiamo la tazzina, la mettiamo su un tavolo, mettiamo lo zucchero e la beviamo. Stessa cosa. Bam, bam, bam. Mando veloce. Ok. Perfetto. Ho messo queste due clip una vicino all'altra. E ho fatto l'operazione che siamo soliti fare, no? Ovvero inserire un in e un out sul monitor sorgente, prendere la clip e poi portarla in timeline. Però, se io mi fossi sbagliato nel mettere l'in e l'out quando ho visionato la clip nel monitor sorgente, no? E volessi modificare la durata direttamente in timeline, come devo fare? Butto tutto e ricomincio? Assolutamente no. Ricordate che quando montate con Premiere, ma in generale quando lavorate al montaggio, dovete essere veloci. Quindi, se commettete un errore, dovete essere magari anche rapidi nel saper rimediare. In questo caso, io per esempio, ho commesso l'errore di prendere questa clip con tantissimo vuoto all'inizio. Vedete? Non accade nulla per diversi secondi. Ho sbagliato magari a mettere l'in, l'avrei dovuto mettere un pochettino meglio. Come posso fare? Ecco, posso modificare la lunghezza di questa clip tagliando sostanzialmente la parte iniziale che non mi interessa. Posso fare, come ho detto l'altra volta, ovvero inserirmi nel punto in cui voglio fare il taglio, premere il tasto CTRL K sulla tastiera dopo aver selezionato le due clip, bam, tagliare, quindi premere i canc, rimuovendo, no? Vedete? La clip che non voglio più nella mia timeline, prendere la seconda clip, avvicinarla, ecco qua. E ho fatto un taglio. Bellissimo. Ma perché fare tutti questi click con il mouse quando si può fare molto prima, ok? Invece che fare un taglio, asportare la clip e riavvicinare la seconda clip alla clip principale, posso fare una cosa molto più veloce. Cerco di capire intanto il punto in cui arriva la mano. Eccoci qua. Prendo la clip, vado con il cursore del mouse vicino al punto di montaggio. Vedete? Questo è un punto di montaggio, è il punto in cui i due clip adiacenti si incontrano, ok? Vedete che il mouse cambia forma e diventa una sorta di maniglia di colore rosso. Ci clicco sopra con il tasto sinistro del mouse, compare una linea rossa. Vedete quella linea rossa che mi indica che sto per modificare la dotata di questa clip. Guardate anche i due monitor del monitor program, come Premiere mi faccia vedere la clip precedente e la clip che sto tagliando. Muovo il mouse verso destra. Vedete che c'è anche un timecode che mi dice di quanti secondi sto avanzando. 7 secondi, 8 secondi. Eccoci qua. La mia mano arriva intorno a 8-9 secondi. Mi tengo un pochettino largo. Lascio e vedete che io sostanzialmente ho accorciato la seconda clip che dovrò semplicemente avvicinare alla prima. Ed eccoci qua. Ho fatto una modifica della durata della seconda clip, della clip B. Ricapitolando. Maniglie rosse, trascino verso destra fino al punto in cui voglio cambiare il punto di inizio della mia clip. Lascio il mouse, prendo la clip, l'avvicino e ho cambiato in qualche modo la durata. Questo è un trim molto semplice e veloce. La stessa cosa vale per la coda. Se io nella coda ho lasciato troppo spazio, se io clicco sopra la fine o comunque sul punto di montaggio, il mouse cambia forma. Clicco e trascino verso sinistra e ho accorciato la clip. Questo è un trim molto semplice. Possiamo sostanzialmente cambiare la durata della clip in qualsiasi momento direttamente nella timeline. Perfetto. Vale anche per quest'altra clip. L'unica differenza è che io chiaramente non posso andare avanti più di così. Quindi mi devo fare un po' di spazio. Prendo la clip. Chiaramente è finita. No. Eccola qua. Posso andare avanti. Vedete? Posso cambiare la durata. Questo è un trim semplice. Premiere però mi offre altri strumenti per fare anche le stesse operazioni se volete che abbiamo fatto adesso ma con meno click perché alla fine lo scopo nostro è quello di lavorare un video con meno click possibili. Con la velocità massima perché spesso se lavoriamo in ambienti broadcast ci viene chiesto di essere precisi e veloci e Premiere ci offre gli strumenti per essere veloci e precisi. Dipende da noi veloci sicuramente se utilizzate la tastiera gli strumenti nella loro completezza sicuramente sarete anche molto veloci. Dicevo Premiere ci offre degli strumenti per lavorare con le clip nella nostra timeline. Guardate in alto o in alto oppure nella versione base di questo template probabilmente la trovate qui a sinistra. Comunque c'è un pannello con degli strumenti. Se non li vedete per qualunque ragione andate su finestra e cercate la voce strumenti. Deve essere accesa. La volta scorsa abbiamo visto lo strumento taglierino. Lo strumento che ci permette di fare dei tagli e dividere una clip sostanzialmente in due parti. Oggi vedremo altri strumenti che riguardano il trim in senso stretto. Guardate per esempio questo strumento qua. Se passate sopra con il mouse leggete strumento montaggio senza scarto. Se noi clicchiamo sopra a questa iconcina e teniamo premuto il tasto sinistro del mouse. Quindi cliccare sopra questa icona e tenere premuto il tasto sinistro del mouse. Compaiono altri strumenti. Noi vedremo intanto i primi due. Il primo è montaggio con scarto. Tasto di scelta rapida il tasto B della tastiera. Montaggio con scarto. Tasto di scelta rapida la lettera B. Cosa fa questo strumento? Intanto vedete che quando torno sulla mia timeline il mio cursore del mouse è completamente cambiato. C'è una barra rossa per dirmi che in questo punto della clip non posso fare nessuna operazione. E in questo punto della seconda clip anche non posso fare nessuna operazione. Ma guardate se vado vicino a un punto di montaggio cosa succede. Eccoci. Il mio cursore del mouse ha cambiato forma ed è diventato una maniglia ma non più rossa come eravamo soliti quando lavoravamo con lo strumento classico, lo strumento selezione. E' una maniglia color giallo. Che cosa fa questa maniglia? Proviamo. Ok? Ricordate questa clip come cominciava? Con la mia mano che entrava, prendeva lo zucchero sostanzialmente, prendeva un cucchiaino di zucchero e andava a girare. Ipotizziamo che io voglia tagliare tutta questa prima parte e voglia far entrare la mia mano direttamente con il cucchiaino di zucchero. Ok? Quindi in altre parole ipotizziamo che io voglia rimuovere tutto questo spazio. Ok? Guardate cosa accade se ho lo strumento montaggio con scarto attivo. Mi metto sempre nel punto di montaggio. Clicco con il tasto sinistro del mouse. Vedete la maniglia diventare gialla. Vado fino al punto in cui voglio far iniziare la mia clip. Lascio. E guardate cosa è successo. La mia clip comincerà direttamente dal punto in cui la mia mano entra con lo zucchero. Torniamo un secondo alla modalità classica. Quindi allo strumento selezione e tasto di scelta rapida V. Ok? E facciamo CTRL Z per annullare l'ultima modifica fatta. L'operazione che abbiamo appena fatto è la stessa operazione che si poteva fare sostanzialmente prendendo la clip, tagliandola e avvicinandola alla clip adiacente. Il risultato è lo stesso. Qual è la differenza? La differenza è che io utilizzando lo strumento montaggio con scarto ho risparmiato tantissimi clip del mouse. Guardate, io scelgo il punto dove voglio far iniziare la mia clip, lascio e sostanzialmente ho risparmiato sicuramente un paio di click del mouse. Quindi il montaggio con scarto cosa fa? Sostanzialmente cambia la durata della clip su cui si lavora e sostanzialmente rimuove il materiale di scarto, attaccando unendolo alla clip direttamente alla clip adiacente. Stessa cosa si può fare con la clip che c'è prima, qui il caffè esce, arriva alla mia mano, lo prende e lo porta via. Ipotizziamo che io non voglio far entrare la mia mano, ma voglio far finire questa clip esattamente qua. Ipotizziamo di avere sempre il montaggio con scarto attivo. Guardate cosa succede, clicco con il tasto sinistro del mouse sul punto di montaggio, trascino, lascio. Ecco qua, sostanzialmente Premiere mi ha lasciato unite le due clip, unite nel senso che chiaramente ha effettuato un taglio nella clip A e sostanzialmente mi ha unito direttamente la clip B senza lasciare nessun tipo di spazio. Ok, questo è quello che è il montaggio con scarto. Andiamo a vedere un altro strumento che è il montaggio senza scarto. Ops, che cosa sarà mai? Allora, vi ho già detto che i punti in cui due clip si incontrano e sono adiacenti su una timeline si chiamano punti di montaggio, ok? O punti di cut, punti di taglio, tagli, come preferite. Ora, ipotizziamo che io questo punto lo voglio spostare un pochettino più indietro, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che taglierò un pezzettino della clip A e aggiungerò un pezzettino della clip B. Detto altrimenti, voglio fare questa operazione, voglio tagliare un pezzettino della clip A e allungare un pochettino la clip B. Sostanzialmente ho spostato questo taglio da qui a qui, ok? Lo strumento montaggio senza scarto fa esattamente questa operazione. Clicco sul punto di montaggio, sposto il punto di montaggio e vedrete che questo strumento ha tagliato questa clip accorciandola e ha allungato quest'altra clip unendole nel punto di montaggio. Questo è lo strumento che si chiama montaggio senza scarto. Un altro strumento utile in Premiere, lo trovate un pochettino più in basso, ah, chiaramente non l'ho detto, ma lo strumento montaggio senza scarto è il tasto N della tastiera. Imparateli bene questi tasti perché sono fondamentali. Dimenticate di utilizzare il mouse per andare a cercare questi strumenti. Imparate piuttosto ad utilizzare la tastiera perché è il modo più veloce di lavorare con Premiere, ma in generale con qualunque software di montaggio. Dicevo, altro strumento lo trovate qui sotto e si chiama, anzi sono due strumenti per la precisione, strumento scivolamento e strumento slittamento. Parliamo dello strumento scivolamento, tasto di scelta rapida della tastiera alla lettera Y. Imparatela bene perché questo è uno strumento importantissimo. Cosa fa lo strumento scivolamento? Sostanzialmente non cambia la durata della clip intanto. Prendiamo la clip A, la clip in cui il caffè, guardiamola al volo, entra in una tazzina. Io ho questa clip che dura all'incirca 42 secondi, vedete? 41 secondi e 20 frame. Io con lo strumento scivolamento non cambio la durata, questo blocco di clip durerà sempre un minuto, si durerà sempre 41 secondi. Ma se io clicco dentro a questa clip e trascino il mouse in avanti e in indietro, sostanzialmente vado a scorrere il contenuto della clip originale lasciando invariata la durata che è di 41 secondi. Detto altrimenti è come se io avessi messo un in e un out qui nella mia clip e andassi a spostare questo in e questo out in avanti e indietro senza modificare la durata complessiva dell'in e dell'out. Vedete? Dura sempre 49 secondi in questo caso. Però vado a modificare il punto di in e il punto di out senza cambiare la durata. Lo strumento scivolamento che stiamo vedendo fa esattamente la stessa cosa ma nella nostra clip della timeline. Quindi non cambia la durata, che in questo caso dura 41 secondi e vari frame, ma vado a scivolare il contenuto della clip originale in avanti indietro, facendo in modo per esempio che, non so, io vi ricordate che avevo rimosso la scena della mia mano, no? Guardate la mia clip ok, la mia clip finiva con il caffè allora, vediamo un po', no? Ok, facciamo finta, ricreiamo la situazione, facciamo finta che io avevo rimosso la mia mano che andava a prendere la tazzina di caffè. Vedete? Finisce questa clip con il caffè che ha riempito la tazzina. Ok, tasto Y della tastiera per attivare lo strumento scivolamento. Se io clicco, vado avanti con il mouse, ecco qua, indietro con il mouse, ho reinserito la scena della mia mano che va a prendere la tazzina di caffè. Chiaramente, essendo la durata sempre di 41 secondi, mi sono perso la parte iniziale della clip, ovvero la tazzina ucata che si riempiva. Non so se è chiaro, mi rendo conto che può essere forse poco chiaro. Il mio consiglio è prendete Premiere, mettete dei video dentro e provatevi da soli questi strumenti. Fate delle prove, perché io cerco di spiegarli come posso, ma mi rendo conto che sono strumenti che potete comprendere alla perfezione se li utilizzate e li capite bene da soli con la vostra esperienza personale. L'ultimo strumento che vediamo oggi è lo strumento slittamento. Lo strumento slittamento fa la stessa cosa che abbiamo visto fare dallo strumento scivolamento, con la differenza che va a mangiare la clip adiacente. Vedete, questa illustrazione grafica è abbastanza eloquente. Praticamente io vado a scivolare il contenuto del video A e sostanzialmente addosso al video B. Quindi ho mangiato un po' di video B, ma lasciando intatta la durata del video A. Un po' contorto quello che ho detto. Ripeto, provate, provate, provate. Il tasto di scelta rapida mi chiedono dello strumento slittamento è la lettera U. U di Udine. U di Udine per lo strumento slittamento, Y per lo strumento scivolamento, gli altri strumenti da ricordare sono la B e la N, ovvero il montaggio con scarto e il montaggio senza scarto. Queste sono le modalità di trim più semplici che trovate in Premiere, credo sicuramente le più utilizzate. Provate, apritevi Premiere, importatevi del materiale e provate da soli questi strumenti. Se avete dubbi, se non ho spiegato bene qualcosa, se avete perplessità, commentate pure questo video oppure venite sul mio sito internet fabbiambrosi.it e mandate una richiesta di aiuto tramite il modulo contatti. Cercherò di aiutarvi nei tempi che mi saranno possibili. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa o vuole integrare quello che è stato detto in questo tutorial, può farlo molto tranquillamente commentando questi video. Venite a trovarmi su fabbiambrosi.it, iscrivetevi al canale YouTube, cercatemi su Facebook, per il momento vi ringrazio. Nella prossima lezione andremo avanti e parleremo della timeline, di alcuni strumenti utili per lavorare in timeline, ovvero come poter copiare le clip, come poter spostare in maniera veloce, un po' di scorciatoie per essere rapidi quando lavoriamo nella nostra timeline. Come modificare lo zoom, per esempio, al volo, come ingrandire le tracce. Vedremo un po' di scorciatoie di Premiere, insomma, via. Grazie per avermi seguito, appuntamento al prossimo video tutorial. Grazie, 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 alla prossima. Ciao!